Con Ivan Raffelli, presidente dei Amici del Rimini Calcio, altro gesto bellissimo, quello di oggi che conferma ancora la vostra grande passione verso questi colori bianco-rossi e la vostra vicinanza verso il Rimini. Spiegaci un po' l'iniziativa, come è nata e cosa avete fatto oggi esattamente, per chi non lo sapesse. Sostanzialmente nulla di nuovo rispetto a quello che viene fatto ogni anno dall'associazione. Noi, come ogni anno, facciamo il nostro tesseramento annuale, facciamo iniziative per raccogliere denaro. L'anno scorso il culmine è stato la realizzazione delle uova pasquali personalizzate e questo, siccome ha avuto molto successo, ci ha consentito di fare un buon ricavato, un buon guadagno. L'obiettivo iniziale a fine stagione era quello di destinare queste somme alla possibilità di entrare in società tramite il progetto di azionariato diffuso promosso dal presidente Grassi. Io dico purtroppo che non si è realizzato e quindi per tenere fede alla parola che avevamo dato a inizio anno, anno solare, abbiamo deciso di destinare queste somme in favore dell'attività del settore giovanile del Rimini. Io in più, Ivan, ti faccio i complimenti a tutti voi perché già qualche anno fa, correggimi se sbaglio, avevate dato sempre come amici del Rimini Calcio un defibrillatore proprio a Sapucci se non ero, quindi sempre al settore giovanile. Sì, noi diciamo che come associazione sono ormai svariati anni che sosteniamo l'attività delle giovanile perché crediamo che sia importante, soprattutto anche per la funzione sociale che hanno le giovanile di una squadra di calcio. Come ho sempre detto, speriamo che un domani questi ragazzi se non possono diventare calciatori, quantomeno siano sicuramente tifosi del Rimini, che quindi possa servire anche per creare nuove leve all'interno della tifoseria visto che ce n'è un gran bisogno. Grazie e complimenti ancora. Grazie a voi e i complimenti li giro naturalmente a tutti i tifosi e tutti gli associati che ci hanno promesso di raggiungere questo traguardo. Grazie. Grazie a tutti.